Oggi il PD ha superato se stesso per l'ennesima volta, bocciando una nostra proposta di rendere per un discorso di diagnosi precoce i ticket sanitari per l'accertamento di patologie legate alla diffusione delle ceneri dell'inceneritore gratuiti. Questa è una cosa incredibile. L'hanno stabilito nel percorso per la costruzione dell'inceneritore della piana fiorentina che dicono essere un inceneritore di ultima generazione e non inquinante, mistificando addirittura i dati rispetto all'area che si respira nella piana, però hanno prudentemente suggerito di fare un monitoraggio di una sorveglianza dell'area di tipo epidemiologico, ma hanno rifiutato che i cittadini possano avere la gratuità e l'accesso agli accertamenti sanitari quando questi cittadini vivono vicino a inceneritori di vecchissima generazione. È una cosa folle. Io credo che si sia veramente al delirio da questo punto di vista. Il PD non sa più da che parte rifarsi per far male ai cittadini toscani. Speriamo davvero che ci se ne ricordi alle prossime elezioni. Speriamo davvero che ci se ne ricordi alle prossime.